Devo finire di elaborare tutto il percorso perché sinceramente io ho cambiato veramente poco dopo Tokyo e quindi forse mi mancano ancora un po' di elementi per rispondere a questa domanda e credo che però le ragazze abbiano fatto un lavoro super nel resistere a un'estate così dolorosa e faticosa insieme e credo che tanto del merito poi del percorso sia stato quello che ognuna ha fatto individualmente e poi nel rimettersi insieme le ragazze hanno fatto qualcosa di eccezionale.